Grazie, quest'anno la mia bimba è cresciuta. Nulla è lasciato il caso, la stiamo trattando con le mani, proprio ovattata. È quasi maggiorenne e le novità sostanziali di quest'anno sono alcuni punti dei tratti nel bosco, che detto così non dice niente ma bisogna andare dentro per vederli. È una pista old school, rimane sempre una pista old school, non di quelle moderne, perché a me sinceramente quelle moderne non piacciono, piacciono queste perché qua esalti lo stile puro della Downhill, esalti la creatività e la fantasia dei rider e non è la pista che esalta, sono i rider che esaltano la pista, per cui io gli aiuto per esaltare le loro potenzialità. Di novità importanti che tutti l'hanno criticata, anche perché non ci sono salti, ma ahimè dietro a questa pista ce ne sono ben 10 di salti. Ma quella non è la differenza, la differenza sostanziale di questa pista è che è fisica, ci vuole un buon allenamento, una buona tecnica, diversamente fai 500 metri, prendi la bici e vai a casa, se non hai il fisico sei finito.